ragazzi buongiorno allora allora cosa ho letto stamattina finalmente una conferma roberto mancini sarà allenatore della nazionale italiana sono molto contento sinceramente perché al di là della simpatia che provo per allenatore mi è sempre piaciuto uno dei miei allenatori preferiti perché comunque vabbè ha tolto che all'inter ha dato tanto ha vinto un po di trofei e a parte vabbè l'ultima volta che è venuto vabbè ma lì purtroppo non poteva fare chissà che cosa sembrerebbe addirittura che rinuncia a uno stipendio di tot di milioni con lo zenith di san petroburgo non so se crederci non so se crederci perché secondo me qualcosa qualche buona uscita ci sarà sicuramente dubito che con questi milioni poi un'altra parte dice alla fine allena nazionale alla fine per ogni allenatore italiano l'alena nazionale italiana e penso sia il massimo della 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 carriera della carriera insomma debuterà a quanto pare contro la rebbe saudita il 28 no 28 maggio 28 maggio mi sembra sì poi avremo la francia francia italia nizza il primo di giugno e il 4 di giugno italia olanda a torino prove siamo ovviamente dei sparring partner in questo caso tranne vabbè tre contro l'olanda che ancora sono fuori quindi diciamo sarà una prova importante sarei anche molto curioso di vedere mancini come si comporterà con la nazionale la qualificazione europei e doppi ovviamente per il 2020 sono sempre un altro annesimo fallimento vedremo un po poi c'era la questione portino portiere sarà donnarumma portiere chi lo sa operin balotelli tornerà tornerà nazionale visto che è lui che la lanciata lui che la staranno a vedere io comunque sono molto fiducioso i mancini anche perché ha sicuramente più esperienza internazionale rispetto a avventura quindi bene o male bene o male qualcosa in più già sicuramente quindi mancini non altro nazionale italiana sono molto contento vedremo un po cosa dove ci porterà e questa nuova nazionale italiana cosa ci prospetterà per il futuro speriamo in bene ragazzi forse azzurri anche se sono vestito di rosso vabbè e forse a nero azzurri per stasera ciao e buon weekend